ELEM è unico ed esclusivo, di carattere, moderno e di tendenza. Un vino che ama distinguersi, fuori dagli schemi e innovativo. ELEM lavora per ottenere il massimo della qualità non solo nel packaging, ma anche nei prodotti, nel rispetto della natura e dell'ambiente. La gamma ELEM presenta vini di carattere creati per appagare tutti i gusti e palami. Tra questi, Spicca La Femme. ELEM La Femme è un progetto ambizioso per veri amatori. Vino rosato delle langhe, ottenuto al 100% da uve del vitigno nebbiolo, sapientemente curate dai migliori enologi. Rosato, fruttato, intenso, splende per stile, equilibrio ed eleganza. Conquista ad ogni source. Curiosi di provarlo? Grazie. Grazie.